La Di Consum Cisla di Fida, l'azienda Bussitalia, la invita a ripristinare le attività di trasporto pubblico locale in provincia di Salerno. Il vice segretario nazionale del CODACONS Matteo Marchetti di Fida, comune di Salerno, regione Campania e Bussitalia. Lo spostamento del capolinea via Vinci Prova ha provocato il blocco di un'arteria principale al centro di Salerno, mentre la fermata dei pullman in via Ligea si sta rivelando pericolosissima poiché i passeggeri devono scendere in doppia fila per la presenza dei tiri in carreggiata. La decisione presa a tutti i livelli ha dato vita ad un disastro annunciato ragion per cui diffideremo il comune di Salerno, l'azienda e la stessa regione Campania la quale dovrà far sapere a tutti i cittadini salernitani se risponde al vero l'indiscrezione che Bussitalia sia stata esclusa dal trasporto pubblico locale ragion per cui non investirebbe più. Così l'avvocato Marchetti in una nota rafforzata da un intervento dell'avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza Palazzo di Città dal 2019, che ha nuovamente sollevato il caso parlando di tutte le anomalie legate alla scelta. Oggi abbiamo le prove del disastro compiuto, tutto previsto e annunciato, sollevato nel corso degli ultimi anni dalla Commissione Trasparenza, ha dichiarato Antonio Cammarota, candidato sindaco della città di Salerno, che rivolgendosi al primo cittadino Vincenzo Napoli chiede di ripristinare la legalità e recuperare la fiducia dei cittadini. Era nelle cose, era una scelta demenziale, lo abbiamo capito e denunciato già in Commissione Trasparenza nel 2019 quando ascoltammo i cittadini di Via Ligea che lamentavano lo spostamento del quartiere per effetto dello spostamento del capolinea e quelli di Via Irno, per i quali raccogliamo 700 firme, che erano contrari innanzitutto al saccheggio di un parcheggio che è funzionale all'economia della zona e poi a un disagio complessivo che deriva dal fatto che qui vi è un assetto viario fondamentale per la città di Salerno e quindi vi sono i problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Sono tutti scontenti e tra l'altro apprendiamo dalle denunce fatte dalle associazioni dei consumatori che vi sono anche dei disagi proprio interni all'organizzazione del lavoro per effetto di questo capolinea. Un'area troppo ingolfata e logisticamente e a livello anche ambientale? Assolutamente sì, ma questo ripeto è sotto gli occhi di tutti. Ma la scelta è demenziale perché scontenta tutti, crea disagio a tutti e va contro la volontà del popolo, va contro gli interessi dei cittadini e qui sono le azioni dei consumatori che noi supporteremo e soprattutto crea un disservizio perché parlando con i dipendenti di Bus Italia emerge che per i particolari tempi che sono necessari a queste manovre non c'è più il tempo di riposo per i lavoratori, saltano moltissime corse, mi è stato riferito per esempio di grandi disagi per la linea che porta al Daprocida a via Monticelli, alla stessa zona Porto, in tutta la zona di via San Leonardo e questo è l'effetto di una scelta, ribadisco, assolutamente fuori da ogni logica, fuori da ogni buonsenso che noi dovremo assolutamente cancellare ripristinando la logica delle cose giuste sin dalla prossima consigliatura. Non va meglio comunque in via Ligea dove nonostante ora non ci sia più il capolinea dei bus, ci sono problemi invece proprio per la fermata dei bus non in sicurezza? Questo ce lo riferiva un sindacalista del Bus Italia il quale ci spiegava, fotografia alla mano, come la fermata dell'autobus corrisponde al percorso che fanno i camion in discesa per cui una signora anziana deve prima superare la linea dei camion e poi prendere il suo posto nell'autobus. Ribadisco, è una scelta che non ha alcun senso, se l'amministrazione avesse voluto fare con un colpo come coniglio dal cilindro del mago la peggior decisione possibile, forse non sarebbe arrivata a tanto.